bello a tutti lupacchiotti lupacchiotti e benvenuti in un nuovissimo video verticale di wolfman questo video voglio farlo vertical perché si lo sto registrando col telefono è l'uno e sono qui da solo perché gli altri sono tutti a dormire tutti i pelandroni e stanno le ricerche stanno facendo sì sono in vacanza con i miei amici siamo al lago e niente facendo un po una camminata e volevo fare questo video per tutti fanno i video i buoni propositi del nuovo anno ma io c'è i buoni propositi li metto sempre poi c'è la bontà ce la metto poi comunque questo video sento di usare che può scendere a mangiarmi si vede non scendere mi ha fatto fare il cambio di strada per questo video comunque la frase che volevo che volevo dirvi è una frase molto importante e molto significativa la frase in questione vabbè adesso torno indietro che stare anche preoccupando perché ho fatto metalago infatti arriviamo da un boff tipo lì lì ecco io ho fatto tipo metalago comunque la frase con cui volevo lasciare lasciarvi per questa esperienza era non fatevi ingannare da quello che poteva essere quello che è stato è stato se il destino ha deciso così è perché dovevate passarli così quest'anni speriamo che il destino prossimi anni vi regali più gioie sperando anche a me soprattutto però se dovete andare così è dovuto andare così io spero che da qui fino al 2030 abbia passato una buona decade e let's get a wolf sì 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 sì